Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti e ben ritrovati qua nel disordine usuale della mia biblioteca. Allora, questa sera ho recuperato un vecchio pocket longanesi che era da tempo che cercavo e che vi presenterò. Allora, si tratta di Storia della Luftwaffe di John Killen, l'arma aerea tedesca dal 1915, anno della sua fondazione in pratica, al 1945. Allora, John Killen scrisse questo libro negli anni 50, è un libro sì datato, ma non è un libro invecchiato. Allora, l'introduzione, che come sempre vi leggo, ci dice che nel 1915, quando ormai la guerra aerea si sta rivelando fondamentale nella decisione delle battaglie, un gruppo di piloti fondatori della Luftwaffe combatte e muore per assicurare alla Germania la supermazia in cielo. Himmelmann, Bölke, von Richthofen. Alcuni di questi nomi li ritroveremo nella Luftwaffe del Terzo Reich, fino agli ultimi giorni del cosiddetto millennio itleriano. Dopo la sconfitta militare della Germania del Kaiser, la Luftwaffe diventa Lufthansa, compagnia aerea civile, all'avanguardia in esperimenti che allora appaiono pazzeschi. Il volo dei grandi dirigibili, ad esempio. Dopo la caduta della Repubblica di Weimar e l'avvento del nazismo, viene dato nuovo incremento all'aviazione militare. Appaiono Göring, il Playboy Udet, il bollente Kesselring, Jeschenek e John Killen segue lo sviluppo della Luftwaffe con una narrazione documentata e che prende il lettore. La Spagna era stata il banco di prova della Luftwaffe hitleriana, con la legione Condor e con i primi bombardamenti terroristici sulle città Madrid e Guernica, mentre la regia aeronautica, o aviazione legionaria volontaria che dir si voglia, si occupava di spianare Barcellona. Adesso tutta l'Europa è sotto il terrore degli aerei tedeschi, l'aviazione tedesca sarà impotente su Stalingrado e infine il rapporto delle forze si rovescia definitivamente. La storia della Luftwaffe di John Killen, libro indubbiamente brillante, una analisi che ha retto sorprendentemente bene all'impatto degli anni passati perché è stata scritta circa 60 anni fa. Sorprendentemente, dicevo, il libro di Killen riesce a essere attuale, riesce a essere tuttora valido. È vero che quando questo libro fu scritto non si sapeva nulla di ultra, non si sapeva nulla delle operazioni segrete, ma la narrazione che Killen fa delle vicende della Luftwaffe è tuttora valida perché oggettivamente i fatti e la storia sono quelle. La disastrosa gestione della Luftwaffe da parte di Goering, il fallimento di Goering come comandante supremo dell'aviazione, perché Goering se ne fregava bellamente, siamo sinceri, della Luftwaffe. A lui interessava soltanto farsi la bella vita a Carinhol, tra i suoi leoni addomesticati, tra i suoi gingilli, tra le sue opere d'arte razziate in tutta Europa. Questo faceva Goering mentre i suoi piloti combattevano e morivano ai suoi teorici ordini in nome del Führer e della Germania. C'è una breve prefazione di questo al libro di Killen, scusate che ve la cerco, eccola lì, una prefazione scritta dallo storico J.C. Slessor che ci racconta questo qui praticamente come scrive Slessor, come ben sappiamo per l'averlo appreso a duro prezzo in due conflitti mondiali, i tedeschi sono ottimi combattenti sia per temperamento che sotto il profilo tecnico e tattico, per terra, per male e per cielo. Fortunatamente per noi, Slessor è inglese, il loro indirizzo strategico durante entrambe le suddette guerre, ma specialmente nella seconda, ha fatto registrare errori fatali. Il maresciallo Smuts, il presidente del Sudafrica, in un momento di espansività, mi confidò un suo pensiero. Sapete, disse Smuts, è il più grande degli errori ritenere che siano le grandi vittorie a far vincere le guerre. Al contrario, sono i grandi errori del nemico. Ecco perché dovremmo erigere un monumento a Hitler in Trafalgar Square per essere stato così pazzo ad attaccare la Russia. Una analisi, questa del maresciallo Smuts, a dir poco, esemplare, breve ed esemplare che ci spiega perfettamente la cappellata clamorosa fatta da Hitler attaccando la Russia. Comunque sia. Continua Slessor. Ora chi leggerà questo libro potrà poi riflettere sul fatto che per quanto riguarda la guerra aerea, Hitler, egregiamente coadiuvato da Hermann Göring, è stato senza dubbio l'arma segreta degli alleati. Dopo le tergiversazioni e la cecità che furono quasi fatali negli anni precedenti al 1939, sarebbe davvero finita male per l'Inghilterra se agli sforzi della RAF non fossero giunti in aiuto i colossali errori dell'illustre maresciallo del Reich Göring e del suo folle padrone, Adolf Hitler. Gli anziani comandanti della Luftwaffe, molti dei quali oltre ad essere ottimi combattenti, erano anche esperti generali, ci appaiono quasi degni di commiserazione se consideriamo come essi siano state vittime delle follie e delle cantonate di un uomo che pur essendo stato un bel comandante di reparti da caccia durante la prima guerra mondiale ebbe peraltro a rivelarsi nella seconda guerra mondiale un comandante in capo di incredibile incompetenza. Sì, Göring fu un incompetente. È stato un bene anche per noi che il criterio base tedesco della condotta della guerra aerea sia stato ispirato ai concetti tradizionali delle armate di terra. Infatti la battaglia d'Inghilterra avrebbe potuto trovare una ben differente conclusione se i nazisti avessero invece proseguito e sviluppato le stupefacenti tecniche d'avanguardia che la vecchia forza aerea imperiale germanica aveva iniziato ad usare come strategia di guerra aerea in occasione dei suoi attacchi sull'Inghilterra già un quarto di secolo prima. Pare strano ma è così, la mentalità della forza aerea imperiale tedesca durante la prima guerra mondiale era paradossalmente molto più avanti di quella durante la seconda guerra mondiale perché prefigurava le teorie, la dottrina operativa della forza imperiale tedesca da bombardamento prefigurava già in buona parte le teorie di Giulio II sul potere aereo e sui bombardieri. Il personale della Luftwaffe, continua Slessor, era coraggioso e deciso. Eccellente la preparazione tecnico-scientifica, l'organizzazione generale, ispirata in modo speciale al criterio della mobilità e della flessibilità, era sostanziale. Le tattiche di impiego al momento della guerra lampo in Francia nel 40 e in Russia nel 41 si dimostrarono di una efficacia devastante. Tutte cose però che possono far vincere delle battaglie ma che per se stesse non fanno certo vincere una guerra. La Luftwaffe ebbe troppi nemici da combattere e ciò non solo verso la fine della guerra, allorché si trovò contro tutto il mondo in armi. Dalla prima fatale decisione di Goering di far cessare gli attacchi alle stazioni radar britanniche durante la battaglia d'Inghilterra alla divina ispirazione di Hitler, quattro anni dopo di trasformare il Messerschmitt 262, lo Schwalb, il primo cacciareazione, in un bombardiere. La Luftwaffe fu costantemente ostacolata e perseguitata dall'inettitudine quasi incredibile degli altissimi gradi politici e militari. Tutto ciò è molto ben descritto nell'ottimo libro di Killen che dovrebbe certamente trovare degno posto tra quelli che vengono letti dagli ufficiali superiori delle forze aeree della Nato, dice Slessor. Allora, gli errori dei comandanti tedeschi, l'incapacità di Goering dei suoi sottoposti e dei suoi superiori, il fallimento clamoroso di Goering come comandante in capo della Luftwaffe. Alcuni esempi sono citati qui. Slessor ha parlato del Messerschmitt 262 che Hitler voleva trasformare in bombardiere. Vogliamo parlare di Herard Milch, il vice di Goering che bloccò la costruzione del superlativo Heinkel HE219 Uhu, il gufo, che era potenzialmente uno, il miglior caccia notturno mai costruito durante la Seconda Guerra Mondiale, ma ne furono costruiti troppo pochi. Non fu mai messo a punto proprio per le indecisioni del comando della Luftwaffe su come dovesse essere armato, su come dovesse essere equipaggiato. Le folli trovate, tipo per esempio quella della Wildesau, la tattica di usare come caccia notturni i monomotori diurni. Una follia. Il siluramento, l'esautorazione del generale Kammhüber, il creatore della linea di difesa della catena radar che guidava i caccia notturni da terra. Praticamente durante la Seconda Guerra Mondiale, Goering, Milch, Udet, Jeschonek, eccetera, non ne fecero una giusta, la più clamorosa di tutte, l'impossibilità fisica di rifornire la sacca di Stalingrado. Goering aveva garantito in tutti i modi che sarebbe stato possibile rifornire la sesta armata assediata a Stalingrado per via aerea, ma era una follia e fu un fallimento clamoroso, spaventoso e sanguinoso, sia per la Luftwaffe che per la sesta armata assediata. Un disastro, un macello. La dimostrazione che il valore degli uomini, degli equipaggi e anche la bontà delle macchine non la può contro l'incompetenza dei comandanti. In poche parole, il libro di Killen parla di questo, parla del sanguinoso, tragico e terribile fallimento della leadership di Goering sulla Luftwaffe, degli errori, dei disastri combinati nella programmazione bellica della Luftwaffe. Basti dire una cosa, non fu possibile per la Luftwaffe sostituire i bombardieri Heinkel 111, Dornier 217 e Junkers 88. Perché? Perché il cosiddetto programma Bomber B, che avrebbe dovuto dare il via ad una nuova generazione di bombardieri i bimotori, abortì malamente perché non si riuscì mai a trovare un sostituto per quegli aerei. Per non parlare poi dell'Einkel HHE 177 Grief, uno dei peggiori aerei della storia. Che vi devo dire? Si parla tanto dell'efficienza tedesca, ma se vi ricordate bene, qualche tempo fa vi avevo parlato del disordine della programmazione e della ricerca bellica tedesca. Questo libro, Storia della Luftwaffe, espone in maniera mirabile la disastrosa condotta, la disastrosa maniera in cui la Luftwaffe fu condotta in guerra. Fecero anche troppo i piloti, gli uomini, gli equipaggi, gli avieri, gli aviatori, fecero anche troppo, ma si trovarono a dover combattere agli ordini di gente assolutamente, totalmente e completamente incompetente. Tutto qui. Quindi, ripeto, un libro vecchio, un libro datato, ma sorprendentemente al passo con le conoscenze che noi tuttora abbiamo sulla Luftwaffe. Aprite un attimo gli occhioni, leggetelo, si trova ovviamente nelle bancarelle perché non è mai stato ristampato da tanti anni, leggetelo, leggetelo, leggetelo e rendetevi conto del macello, del casino, del disastro con cui gli aviatori della Luftwaffe ebbero a che fare. Tutto qui. Quindi, storia della Luftwaffe di John Killen, ovvero sia come Goering e Hitler, fecero di tutto per perdere la guerra. Tutto qui. Signori, io vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci alla mia prossima video recensione. Buonasera.